Ho una bella novità da raccontarti. Oggi Lavazza, dando vita alla sua prima capsula compostabile, trasforma il piacere di un caffè nel piacere di far del bene all'ambiente. La capsula, una volta terminato il caffè, si getta nell'organico e in pochi mesi ritorna a terra. Così poi può nascere una pianta. E dalla pianta un paesaggio. E dal paesaggio un'idea diversa di futuro. Persino io posso ritornare goccia. E la buona notizia è che ti basta bere un caffè così perché tutto questo succeda ogni volta. Il caffè è un piacere che fai al pianeta. E la qualità è sempre Lavazza. Il caffè è un piacere che fai al pianeta. Grazie. Grazie.